Oggi, 16 maggio, siamo ritornati qui in Val del Miss per monitorare la situazione del cantiere della Valsabia dove la dita paltatirice Alpenbau sta effettuando i lavori per la costruzione della centralina idroelettrica. Qui i lavori sono cominciati circa tre settimane fa, già, come vedete, hanno deviato il corso del fiume. Ricordiamo che il primo maggio oltre 200 persone hanno manifestato contro quest'opera entrando nel cantiere per dire no a quest'opera. Come vedete in questo momento le pacchere stanno danneggiando il fiume. Dal primo maggio nuovi mezzi sono entrati nel cantiere, come potete vedere questa enorme trivella. Ricordiamo che il cantiere è anche abusivo perché ancora i contratti di affitto non sono stati firmati. Ricordiamo che qui siamo all'interno, siamo a 30 metri dal parco delle Dolomiti, patrimonio mondiale Unesco. E questo è quello che sta succedendo. Double 1+, è tutto.